Con questa mossa concludo il mio turno. Il tuo numero sembra davvero molto temibile. Tuttavia... Le apparenze spesso ingannano. Chiamo in gioco Druido Dru setta segreta. Druido Dru mi permette di evocare un altro druido direttamente dal mio cimitero. Torna subito tra noi, Druido Wid setta segreta. A questo punto svelo la carta numero di cui sono il custode. Sovrappongo i due druidi entrambi di livello 4 per costruire la rete di sovrapposizioni. Evocazione Xyz! Numero 44, Pegasio del cielo! Mostrati a noi, mio potente destriero! Svegliati dal lungo sonno in cui sei stato confinato e vola sfoggiando tutto il tuo splendore e il tuo potere a queste creature inferiori!